osast osast sta appunto come acronimo di sindrome delle apnee ostruttive del sonno questa è una problematica molto comune nella popolazione ma è una problematica sottodiagnosticata cioè quasi mai non si riesce appunto a diagnosticare a riconoscere spesso il medico va a prescrivere addirittura il tavor le apnee ostruttive del sonno determinano un respiro irregolare e un pattern di russamento questo comporta o un'apnea o un'ipopnea cioè un blocco totale o parziale del respiro di conseguenza il soggetto non avrà mai un sonno respiratore e il giorno dopo si sveglierà con tutto un corteo sintomatologico che andremo a vedere dopo ma in linea di massima avrà appunto un deficit di sonno e quindi una sonnolenza residua di urna quello che si verifica è un blocco del flusso di aria verso i polmoni diverse sono le cause delle apnee ostruttive del sonno ma la causa principale è il fatto che i nostri volti stanno crescendo sempre più in modo non corretto in modo anomalo questo perché lo studio di vita è cambiato questo perché le malocclusioni non vengono riconosciute precocemente spesso un bambino 5-6 anni va dal dentista la malocclusione non viene diagnosticata e quindi si dice ai genitori aspettiamo a 10 anni 12 anni quando cambia tutti i denti che mettiamo l'apparecchio fisso ma lì quello è un altro tipo di terapia alcuni trigger nell'esergenza diciamo delle apnee ostruttive del sonno sono causate dalle adenoidi aumentate di volume o anche dalle allergie ma anche il sovrappeso fa collassare più facilmente i tessuti molli nelle vie aeree specialmente quando si dorme in posizione supina tuttavia le vie aeree sono molto piccole e anche le nostre bocche rispetto a quelle dei nostri antenati sono più piccole la lingua ha meno spazio perciò i tessuti molli e la lingua durante il sonno quando si va in posizione supina collassano e ostruiscono le vie aeree ostacolando il passaggio dell'aria ci dipingono cartoni animati film serie tv dove appunto si russa e così via ma russare è effettivamente naturale no non è naturale così come non è naturale avere i denti storti o le malocclusioni dentali tanti dicono e vabbè siccome la malocclusione dentale è presente in circa il 90 per cento della popolazione vuol dire che è una normalità una cosa normale non è così il fatto che sia frequente non significa che sia normale le altre specie selvatiche di animali esistenti in natura non hanno assolutamente queste problematiche piuttosto rivolgetevi a un medico in grado di gestire di trattare questi tipi di problematiche valutate per esempio le dimensioni della vostra ugola che quella parte che pende in fondo al palato se aprendo la bocca l'ugola è ben visibile in tal caso probabilmente sarete meno soggetti a roncopatie se l'ugola invece non è visibile come in classe 4 ovviamente perché è nascosta dalla lingua probabilmente sarete più predisposti questo sistema di misurazione nella scala di friedman o il test di mallampati anche c'è inoltre se la vostra lingua si sovrappone ai molari oppure la lingua ai suoi lati ha delle impronte dei denti significa che essa è troppo grande per la vostra bocca cioè la vostra bocca è troppo piccola iposviluppata per via del vostro stile di vita e questo quindi aumenta il rischio di blocco della gola quando ci si sdraia per dormire anche il collo ha un'influenza sulla insorgenza delle apnee ostruttive del sonno soprattutto se ha una notevole circonferenza se è maggiore di 43 negli uomini è maggiore di 40 nelle donne in questi due casi infatti c'è un maggior rischio di ostruzione delle vie aeree anche i sollevatori di peso e gli obesi sono più a rischio di apnee ostruttive del sonno perché hanno uno strato enorme nel collo di muscoli gli atleti di grasso gli obesi ma non pensate che siano soltanto questi individui a soffrire di apnee ostruttive del sonno ne soffrono anche i corridori di resistenza che sono magrissimi come dei fuscelli di ricotta però questa problematica ha vari problemi oltre al fatto che è underdiagnosticata l'altro problema è il problema delle terapie perché le terapie molto spesso non agiscono sulle cause la chip up la rimozione delle adenoide delle tonsille sono solo una soluzione temporanea al problema bisogna agire sulla causa del problema la causa del problema è la bocca troppo piccola spesso quello che si fa è utilizzare dei dispositivi di avanzamento mandibolare che non sono questi che vedete appunto in questa foto i cosiddetti mad questi dispositivi di avanzamento mandibolare nel breve termine permettono di migliorare la problematica ma nel lungo termine fanno collassare il macellare superiore e peggiorano la problematica di fondo la migliore medicina per evitare comunque sia in età adulta tutte queste problematiche come vi ho detto prima intercettare le malocclusioni o pattern di crescita alterato del volto da piccoli ma molti pazienti vengono da me con i loro figli di 4 5 anni e fanno loro i dottori e dicono e no a 4 5 anni non si può diagnosticare una malocclusione come no certo che si ed è il momento migliore in cui intervenire se quel tipo di malocclusione appunto è grave un crossbite una terza classe va intercettata subito bisogna espandere precocemente il cavo orale che nella nostra civiltà e gli può sviluppato i nostri bambini ne soffrono ovviamente essere un bambino oggi veramente una sfida perché è molto difficile per i bambini piccoli che respirano con la bocca poi stare nel contesto sociale a scuola e così via i primi apparecchi ortodontici erano concepiti per aumentare appunto le dimensioni della bocca e per aprire per aprire anche le vie respiratorie pensate voi che nel 1859 ci fu norman kingsley che era un dentista e uno scultore che costruì un apparecchio che obbligava la mandibola a spostarsi in avanti creando uno spazio nel retro della gola banalmente semplice ma funzionava bene poi nel novecento pierro ben l'inventore lo scopritore più che inventore della sindrome di pierro ben progettò un suo dispositivo chiamato monoblocco che questo che vedete a sinistra come dice il nome stesso è un blocco unico che espande il palato in poche settimane e banalmente permette ai pazienti di respirare meglio però dal monoblocco poi sono stati ideati tanti dispositivi simili usati però a quel punto nel corso del tempo per un altro scopo cioè quello di raddrizzare i denti storti ma i denti crescono dritti se lo spazio è sufficiente se la bocca è piccola i denti non possono crescere dritti così nel tempo cominciò appunto a vedersi che il processo di espandere il cavolare il cavolare richiedeva competenza in manutenzione non tutti i dentisti erano in grado di appunto espandere correttamente e quindi i risultati dipendevano delle capacità del dentista per esempio per i pazienti con il morso profondo pochi dentisti capivano che era necessario banalmente spostare la mandibola in avanti allora trovarono modi per arretrare il mascellare superiore e nel 1940 pensate voi ahimè era una pratica ormai convenzionale quella di estrarre i denti e spingere indietro i restanti denti superiori con dei dispositivi ortodontici e infatti estraendo i denti quello che pensavano è se i denti sono di meno sono anche più facili da gestire e offrono dei risultati più stabili così partì negli stati uniti l'ortodonzia retrattiva basata su standard anche di razzismo perché in quegli anni negli stati uniti c'erano ovviamente gli afroamericani e poi le anglosassoni se vogliamo gli afroamericani ovviamente hanno un profilo generalmente dal punto di vista bioantropologico più prominente allora che cosa dicevano questi ortodontisti che erano razzisti se vogliamo dicevano no il bianco si deve distinguere dall'afroamericano e quindi bisogna estrarre i denti così appiattiamo il profilo e c'è questo marchio fisico somatico distintivo tant'è che poi tutte le cefalometrie sono errate se vogliamo perché sì sono giuste per il caucasico ma per un afroamericano per un congoide per un australoide per un per un asiatico e così via non vanno bene perché tutte le analisi cefalometriche sono basate sono basate su standard del caucasico ma un congoide un capoide non può avere degli standard cefalometrici di un caucasico questo è il concetto e quindi tutte queste pratiche in quegli anni ci furono di estrazione di denti a scopo ortodontiche così via sì permissero gli ortodontisti di addrizzare i denti risolvendo i sintomi ma senza trattare la causa ma furono un boomerang perché comportarono poi ulteriori problematiche le bocche diventavano sempre più piccole e sempre più disfunzionali un cavo orale più piccolo è più facile da gestire per un dentista ma rende le bocche più piccole e la respirazione peggiora non a caso si resero conto che qualche mese anno dopo alcuni pazienti lamentavano disturbi di cui non avevano mai sofferto prima rossamenti febbre da fieno allergie asma quando chiedevano la bocca alle volte avvertivano anche la presenza di clic mandibolari le facce diventavano più piatte meno definite e ancora oggi ci sono delle scuole ortodontiche che sono a favore delle estrazioni dentali io diciamo in alcuni casi ho dovuto eseguire delle estrazioni dentali per l'ortodonzia ma non nei casi veramente gravi ma di solito evito sempre di estrarre i denti perché comunque nella stragrande maggioranza dei casi riesco a ottenere i miei obiettivi riesco a ottenere i miei obiettivi terapeutici senza estrarre alla fine degli anni 50 un dentista britannico prese a cuore questa problematica lui era questo che vedete a sinistra nella foto john new cominciò a misurare le facce e i volti di coloro che avevano subito trattamenti ortodontici estrattivi e li controllò e confrontò con le bocche dei giovani pazienti che invece erano stati sottoposti a delle terapie di espansione fece studi persino sui gemelli e vide che coloro che avevano subito estrazioni avevano un iposviluppo del volto rispetto al gemello che non aveva subito estrazioni e new quindi considerò questo problema una conseguenza delle terapie ortodontiche estrattive e vedeva che la respirazione peggiorava però lui fu considerato all'epoca un charlatano li revocarono la licenza e stava per finire dimenticato come tanti altri pionieri in questo ambito come corruccini weston price stout e così via ma negli ultimi anni tanti dentisti si sono poi resi conto che ciò che diceva new era vero e la principale conferma è giunta nel 2018 quando praticamente la stanford university pubblicò una montagna di 216 pagine da parte del famoso biologo evolutivo paul erlich e anche dell'ortodontista sandra can che indicarono centinaia di fonti scientifiche a sostegno di new perciò le teorie di new con il tempo diventarono dominanti hanno fondato un'accademia che è l'academy of orofacial meofunctional therapy e new chiaramente inventò un apparecchio molto simile al monoblocco di pierre robin chiamato bioblock uno studio del 2006 ha messo in luce che i pazienti trattati con con bioblock hanno un'espansione delle vie respiratorie ottimale questo è stato visto da sing chiaramente tutti i principi del padre del padre sono stati portati avanti dal figlio mike new anche e ovviamente diciamo adesso collaborano insieme padre figlio tanti individui hanno l'aspetto le posture diciamo di individui con un volto ipotonico dopo sviluppato proprio come mark zakenberg per esempio questa è una distrofia craniofacciale che in media colpisce il 50 per cento della popolazione moderna con un tipo di esercizio specifico il mewing è possibile espandere le vie aeree e il palato come vedete in questa foto bisogna appoggiare la parte posteriore della lingua contro il palato spingere in avanti il resto della lingua finché la punta non arriva dietro i denti anteriori e in questo modo le bocche si espandono la mandibola diventa più definita la respirazione più facile e si riducono le apnee ostruttive del sonno questo permette la ricerca dell'arte persa della respirazione nella nostra civiltà moderna perché d'altronde noi siamo gli animali che respiriamo peggio le ossa macellari possono espandersi anche in età adulta sia il condilo che si è stimolato neo appone sia anche le altre ossa perché a livello delle suture è stato visto lo ha scoperto belford che ci sono delle cellule staminali poi nel 1986 kokic professore dell'università di washington ha confermato ciò le adulti conservano la capacità di rigenerare di rimodellare l'osso in corrispondenza delle suture infatti le cellule staminali sono qui presenti e sono prodotte dalle suture ma sono anche presenti nelle ossa macellari e sono usate dal corpo umano per la manutenzione locale del volto e della bocca e vengono attirate e richiamate dai segnali di stress che nel nostro caso sono il mewing o una masticazione corretta e vigorosa per produrre cellule staminali quindi dobbiamo far lavorare instancabilmente il muscolo massetere stringendo fortemente i molari nella masticazione selvaggia se vogliamo più mastichiamo più rilasciamo cellule staminali stimolando quindi la crescita e la densità dell'osso tutto però deve avere inizio idealmente alla nascita con degli stimoli corretti l'allattamento al seno non quello al biberon e poi quando cominciano a spuntare i primi denti la masticazione di cibi duri in questo modo si hanno delle ossa più forti e delle vie aeree più grandi fino a qualche centinaio di anni fa le madri allattavano i bambini fino a 2-4 anni alle volte anche fino all'adolescenza più tempo passavano i bambini a masticare a succhiare più le facce e le vie respiratorie si sviluppavano in modo congruo negli ultimi vent'anni circa diversi studi hanno confermato tale ipotesi meno dentistorti meno roncopatia nei neonati allattati naturalmente rispetto a quelli allattati artificialmente e al biberon belford poi ha inventato un suo apparecchio che detto omeoblock che espande stimola lo stress della masticazione ogni volta che diciamo lo si porta e quindi questo permette di evitare di dover passare 3-4 ore al giorno a masticare ossa legna come i nostri antenati l'omeoblock è quello che vedete qui in destra qui a destra nella foto e induce la morfogenesi e spesso si può portare anche solo la notte poi ovviamente ve lo dirà il vostro ortodottista io utilizzo le placche di planas il bioblock l'omeoblock cioè questo qui utilizzo diversi apparecchi funzionali utilizzo anche i bionator e così via altri studi nel tempo furono fatti da james c wallace sulla correlazione tra respirazione e masticazione secondo questi studi una dieta con cibi morbidi impedisce lo sviluppo delle fibre muscolari della lingua se la lingua è debole essa non può guidare i denti da latte nella posizione corretta così molti cominciarono a misurare le bocche dei loro pazienti con quelle dei crani risalenti ai tempi antecedenti alla rivoluzione industriale e fecero un confronto dimensioni della bocca dei loro pazienti con dimensioni della bocca dei crani diciamo del passato prima della rivoluzione industriale nel concreto risultò che i palati dei crani antichi misuravano circa diciamo 6 centimetri tra il 5,38 e il 6,65 nel diciannovesimo secolo si erano però ridotti a 5,48 centimetri cioè tra 4,77 e 6,19 centimetri questi lavori li fece starkey e trovate proprio l'articolo scientifico e letteratura poi però una grande svolta è un lavoro veramente formidabile fu fatto da lui da quest'uomo un antropologo pioniere in questo campo era un antropologo dello smithsonian natural museum o history robert corruccini scrisse circa 250 articoli e 12 libri sul tema girò il mondo lui esaminando migliaia di bocche di diete dei nativi americani dei pima degli immigrati cinesi degli aborigeni del kentucky degli aborigeni australiani e così via fece anche studi su animali alimentando un gruppo di maiali con cibi duri e un gruppo di maiali con cibi morbidi però alla fine della fiera sia nelle persone che negli animali i risultati erano sempre gli stessi lo switch lo switch da cibi duri a cibi morbidi causava un restringimento delle facce un affollamento dentale l'insorgenza di problematiche respiratorie e di generazione in generazione queste problematiche peggioravano alla prima generazione di cambio dieta il 50 per cento degli individui arriva alla malocclusione alla seconda generazione il 70 per cento alla terza 85 per cento alla quarta siamo noi ed è circa il 95 per cento il 90 per cento scusate delle persone che ha una malocclusione corruccini presentò questi studi a dovere in varie conferenze odontoiatriche definendo anche le malocclusioni come delle malattie della civiltà nonostante tutto non è cambiato nulla nel concreto e quasi tutti i medici attribuiscono ancora oggi nel 2024 alla genetica le cause delle malocclusioni questo perché anche nelle università e nei corsi di formazioni c'è proprio una carenza di formazione in tal senso ricordiamo sempre che la natura cerca l'omeostasi e l'equilibrio e la funzione crea l'organo e in più un cranio di un cacciatore raccoglitore raramente può avere denti affollati andiamo a vedere per quanto riguarda sempre le apnee ostruttive del sonno gli aspetti epidemiologici come largamente spiegato è una malattia del mondo civilizzato fattori predisponenti sono l'obesità lo shift dietetico l'invecchiamento perché di per sé l'invecchiamento aumenta il rischio di osos ma non è l'unico fattore perché abbiamo detto prima anche i bambini soffrono di apnee ostruttive del sonno caratteristiche somatiche specifiche possono aumentare il rischio di apnee ostruttive del sonno lino banfi o joe biden sono due esempi diciamo classici se vogliamo pensate voi un individuo come joe biden che il presidente degli stati uniti d'america se soffre di apnee ostruttive del sonno è un pericolo per la nazione perché vedremo poi quali sono i rischi e i sintomi di apnee ostruttive del sonno sono comunque un problema economico queste apnee ostruttive del sonno perché causano dei costi sanitari alti poi i tempi di attesa lo sappiamo la sanità in italia non funziona sono lunghi e pochi professionisti sono anche in grado di trattare la problematica andando appunto ad eradicare le cause come abbiamo visto ampiamente in questo video poi c'è tutto il corteo di aspetti medico legali correlati a questa problematica perché ovviamente uno che soffre di apnee ostruttive del sonno deve essere riconosciuto e va tolta la patente ovviamente va sospesa immaginate joe biden con queste problematiche non può fare il presidente se vogliamo qualora lui avesse apnee non lo sappiamo ovviamente e poi c'è anche tutto il problema di una scarsa aderenza alle terapie in questa che poi è una malattia cronica e a 20 anni persone giovani di 20 anni vengono prescritte le chip up ovviamente questo causa una perdita di affidabilità professionale è stato visto che c'è un abbandono delle terapie fatte con chip up nel 70 per cento dei casi a distanza di un anno sì la chip up salva la vita ma non è la cura della problematica la cura è liberare la mandibola e aumentare lo spazio per la lingua nonché anche se necessario andare ad espandere il mascellare superiore le apnee ostruttive del sonno sono più frequenti nei maschi rispetto che nelle femmine ma anche le femmine possono essere colpite inizialmente questa patologia venne denominata appunto come sindrome di piquic dal nome del ragazzo grasso joe presente nel romanzo di dickens il circolo di piquic fu il medico osler a coniare la malattia con questo termine nel romanzo c'è una descrizione clinica accurata proprio dell'osas nell'adulto avviamoci a un discorso di chiusura e vediamo quali sono i segni sintomi delle apnee ostruttive del sonno ovviamente sono tutti diciamo riconducibili proprio alla deprivazione del sonno stesso quindi avremo la nicturia cioè l'esigenza di andare ad urinare frequentemente nel corso della notte a ciò ovviamente di conseguenza si esagerà anche l'insonnia avremo un deficit di concentrazione di attenzione mal di testa stanchezza residua e quindi sonnolenza di urna e tanti tanti altri sintomi questi sono solo alcuni dei principali ma poi non va dimenticato che queste patologie questa patologia se non trattata questa sindrome se non trattata da complicanze cardiovascolari quindi aritmie ictus infarti malattie respiratorie diabete cancro e così via perciò è importante la diagnosi perciò è importante fenotipizzare il paziente fare un'anamnesi medica adeguata un buon esame obiettivo valutare le dimensioni della bocca e delle vie aeree il gold standard della diagnosi e la polisonnografia per quanto riguarda il trattamento diciamo che trattare un conto curare un altro trattare significa appunto gestire la problematica se vogliamo evitare il consumo di alcol dormire su di un lato la chip up però c'è caos sul trattamento la diagnosi dubbio è differente mancano comunque delle linee guida e in più la chirurgia le volte invasiva e non risolve le cause e allora la vera cura non è tanto diciamo con la chip up ma se possibile andrebbero utilizzate dei dispositivi a livello del caporale espandere il palato correggere i macellari sbloccare la mandibola con delle piste indirette di planas l'utilizzo del bioblock dell'omeoblock è anche ampiamente raccomandato tanti dentisti dicono io curo i miei pazienti dalla loro malocclusione ma attenzione nella stragrande maggioranza dei casi i pazienti i dentisti non curano loro pazienti ma trattano solo i sintomi della malocclusione dipende non sempre si riesce appunto a curare in ogni caso al centro di tutto c'è il benessere del paziente e soprattutto diciamo il discorso che queste problematiche devono essere prevenute il prima possibile se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti al canale condivido con altri utenti per far crescere sempre di più questa community per renderla sempre più utile per tutti se hai delle domande scrivimi qui sotto nei commenti o contattami in privato via mail o su twitter attiva la campanellina delle notifiche in modo tale appunto da rimanere sempre aggiornato su tutti i video che pubblico io ti ricordo che le informazioni che trovi nei miei video hanno uno scopo puramente divulgativo ed informativo per cui per qualsiasi dubbio rivolgeti sempre al tuo medico ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao